Il commissariamento della sanità in Calabria è stato un eclatante fallimento e lo Stato deve assumersi le sue responsabilità, visto che questo strumento, decreto dopo decreto, ha fallito e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Lo Stato, insomma, è in debito con la Calabria. Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale dell'economia del Partito Democratico, già viceministro all'economia a Cosenza, per partecipare ad un'iniziativa organizzata dal PD della città Abruzzia dal titolo Debito pregresso risorse mai spese, le questioni risolte della sanità calabrese. Purtroppo in questi anni non si è risolta la situazione del debito, che anzi con tutta probabilità è molto aumentato rispetto al livello di partenza e in compenso si sono ridotti al di sotto del livello dignitoso i servizi, la quantità e la qualità dei servizi erogati ai cittadini calabresi. Bisogna rompere questo circolo vizioso e individuare i meccanismi utili per quantificare innanzitutto il debito sanitario calabrese, risolvere il progresso e restituire la gestione del servizio sanitario ai calabresi in modo tale da superare definitivamente anni e anni che hanno purtroppo segnato un progressivo decadimento di un servizio essenziale ai cittadini. C'è un percorso da seguire, finché non si quantifica con esattezza l'ammontare del debito del sistema sanitario regionale non si potranno fare dei passi in avanti perché i bilanci rimarranno gravati da un contenzioso che nessuno è in grado di quantificare e da rapporti molto travagliati con i fornitori del sistema sanitario regionale. Quindi quantificare il debito, bisogna trovare risorse importanti perché parliamo di cifre notevolissime che vanno ripianate e poi ripartire su basi nuove. Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza che è una riprogettazione del sistema sanitario nazionale può essere e poi deve essere l'occasione per ripartire su basi nuove anche in Calabria.